Siamo con Michele Minaglia, allenatore dell'Under 16 della Nuova Lega Palavolo Sanremo, Fratelli Coutelet. Una grande stagione, coach. Una buona stagione è stata, una buona stagione. Con questo gruppo abbiamo fatto il campionato di Under 16 e abbiamo disputato sotto età il campionato di Under 18. Il campionato di Under 16 è andato molto bene, ci siamo classificati secondi nel campionato territoriale a nove squadre e martedì andremo ad affrontare l'Admo Lavagna in quella che è la semifinale regionale. Ecco, chi è che è spiccato più degli altri? Un bel gruppo? Guarda, non ti faccio un nome di un singolo, però posso dire che abbiamo molti atleti che si sono dimostrati all'altezza della situazione e ne abbiamo in particolar modo cinque che sono coinvolti nella selezione territoriale in questo momento. I progetti futuri? Progetti futuri? Beh, intanto finiamo questa stagione. Sicuramente ci aspetta una partita molto impegnativa. Con questo gruppo siamo andati anche a rafforzare l'organico della Serie D. Abbiamo un'altra squadra che fa il campionato di Under 18 con la quale abbiamo affrontato la Serie D e stiamo integrando questo gruppo con l'altro gruppo. Quindi sicuramente per il futuro continuare a lavorare bene sui settori giovanili e speriamo anche in un campionato di serie. A livello personale che stagione è stata? Beh, è stata molto soddisfacente per me, non tanto per i risultati, quanto per la crescita che ho visto in questi ragazzi giorno dopo giorno. Quindi molto soddisfatto sicuramente.